La terza posizione per Nikita Tsitnikov, potremmo non sei felice. Potremmo non sei felice, perchè non sono felice. Sono stato molto strano in questa raccoglia. La mia squadra, Kamarov Racing, mi aiutò in questo gioco. Potrei essere migliori, ma in ultimo gioco, in ultimo gioco, ho fatto un errore, mi fuori dalla tracka, e il Colombo Allet mi ha trovato. E' stato molto strano, ma sono felice, perchè è il primo pòdium della Copca F3 in Italia.